Il castello di Barbablu di Aver Serkas, edito da Guanda. Il primo ricordo che Cosette conserva di suo padre era molto vivido. Era sprofondato in un seggiolino per bambini sul sedile posteriore di un'auto e davanti a lei, al volante, lui le annunciava che sua madre era morta. Stavano per partire dalla terra alta e suo padre non la guardava nemmeno dallo specchietto retrovisore, guardava soltanto dentro di sé o davanti a sé, verso quel nastro d'asfalto che li portava in direzione di Barcellona. Poi suo padre tentava di spiegarle cosa significava quello che aveva detto, finché lei capiva che non avrebbe più rivisto la madre e che, a partire da quel momento, erano soli e avrebbero dovuto cavarsela con le proprie forze.